Il miracolo della piccola Rondine Era una mattina un po' strana quella che stava iniziando per Fly. Mamma Rondine la svegliò con uno strano sorriso in volto. Svegliati dormigliona, oggi è un giorno speciale. Cosa può avere di tanto speciale un giorno? rispose la piccola, aprendo il becco in un enorme sbadiglio. Oggi è il primo giorno di primavera, dobbiamo tornare a casa. A quella notizia Fly volò come un lampo fuori dal nido e passando per ogni ramo svegliò tutti quanti con il suo canto squillante. Alle nove del mattino tutte le Rondine erano pronte a prendere il volo e ad affrontare la lunga traversata che le separava dalla loro cara vecchia casa. Il viaggio fu lungo, ma Fly non vedeva l'ora di rivedere la vecchia e grossa quercia, il campo di Margherite e la tana di Anatra in riva al fiume. E così, prima che le luci del tramonto avvolgessero la città, le Rondini fecero ritorno al loro nido. C'era qualcosa però che non andava. La città non brulicava di vita come al solito. Non c'erano persone che leggevano all'ombra della grande vecchia quercia. I bambini non giocavano nei parchi accompagnati dalle loro mamme. I claxon delle macchine non risuonavano nell'aria. E nessuno, dico proprio nessuno, stava dando da mangiare alle anatra in riva al fiume. La città era come avvolta in un velo silenzioso. E lo stupore fu talmente tanto che Fly per poco non prese in piedi una ringhiera di un balcone. Non sapendo cosa fare, Fly si rivolse al saggio Sole, che stava quasi per andare a farsi il suo quotidiano pisolino. Sole, Sole! Abbiamo un enorme problema! Bentornata, Rondinella. Cosa succede di tanto grave? Le persone sono sparite! E i bambini non ci sono più! Calmati, Fly, nessuno è scomparso. Avvicinati a quella finestra e guarda dentro. Sono tutti nelle loro case. Fly si avvicinò a un balcone, facendo attenzione a non farsi nuotare. Dentro la finestra vide una mamma intenta a preparare la cena. E subito dopo un bimbo corse incontro a lei ad abbracciarla. La mamma prese in braccio il piccolo e gli diede un tenero bacio sulla fronte. Ma qualcosa non andava. Fly aveva la sensazione che quel bimbo avesse un'aria più triste del normale. Allora tornò dal saggio Sole, che sempre più stanco, stava facendo un enorme sbadiglio, tanto che l'aria che uscì dalla sua bocca fece fare a Fly una verticosa piruetta su se stessa. Ma come mai sono tutti chiusi nelle loro case? Si stanno perdendo la primavera! «Vedi, Londinella, gli umani non possono uscire in questi giorni, perché per le strade si sta diffondendo una brutta influenza che fa star male grandi e piccini. Per evitare che ognuno di loro sia mali, è meglio che passino del tempo con le loro famiglie, finché questo brutto malanno non sarà andato via». Fly rimase un po' interdetta da quella spiegazione, ma poi pensò che, in effetti, se stare nelle proprie case era la scelta migliore, allora di sicuro era la cosa che andava fatta. Tuttavia, non poteva permettere agli umani di perdersi uno spettacolo così speciale. La piccola Rondinella lavorò incessantemente per tutta la notte, aveva una missione speciale da compiere e doveva sbrigarsi. «Presso il sole!» sarebbe tornato e avrebbe svegliato tutti quanti. Il mattino seguente, ogni singolo abitante trovò un regalo davvero speciale. Fiori di tutti i colori e di tutte le forme erano stati portati sui balconi e sulle finestre di tutta la città e tra le vie si diffuse una felicità mai vista prima. Fly aveva fatto qualcosa di davvero speciale. era riuscita a portare la primavera nelle case di tutti gli umani, donando loro un sorriso, una speranza e una giornata splendida da condividere con i propri cari.